Siamo andati, io, mia moglie ovviamente, l'amico argentino e Empanada che è la moglie dell'amico argentino Empanada? Abbiamo fatto un venerdì domenica, ok? Siamo arrivati il venerdì, siamo rimasti fino alla domenica, arriviamo il venerdì Meditiamo, 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 birretta Meditiamo, 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 meditiamo E a un certo punto, il sabato finalmente, sono arrivato al Nirvana Bel posto, carino, tipo Diano Marina con più bar E lì, nel Nirvana, becco finalmente Buddha Ah Che mi appare e mi dice Ma come fai a non far giocare in signe nella partita contro la Sveca? Ma sinceramente Ma sinceramente Ti lavano la roba o portate a casa? No, portiamo tutto a casa dalla mamma Lavatrici dalla mamma Esatto E vabbè, sì, come si fa? Le divise sono una per tutto l'anno Ah, ok Quindi anche lì si porta in lavanderia Invece nel calcio, ogni partita la sua, forse ne hanno anche più di una Sì, mi sa che ne hanno anche più di una ogni partita Voi, quella è la vostra maglietta, se si perde Sempre quella tutto l'anno Tu il 9 giochi col 14 Se si perde il 9 giochi col 14 Se si perde il 9 devo andare a comprare un'altra Vai tu, perfetto, ci sta, ci sta, ci sta Mi hai rubato il parcheggio Sì Quindi quel parcheggio era mio Ok, botte Sì Pugno Slow motion Slow motion Vai, ci sto Ci sto Ci abbiamo l'hashtag slow motion? Siamo in slow mo? Siamo in slow mo? Fight Club Arrivati Quanti hashtag ci sono? Vai Oh, sono qui da un quarto d'ora Avevo visto il posto e scudami Oh, quel posto era mio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh